Dal 2 all'11 settembre, come è ormai tradizione da 37 anni, ad Oliveto Citra si svolge il premio Sele d'Oro Mezzogiorno, un'occasione per riflettere con i protagonisti della politica nazionale e dell'imprenditoria sulle sfide che coinvolgono le aree interne e il mezzogiorno. Tema di questa edizione, ripensare, il sud dentro i mutamenti. Nella serata dell'8 settembre, con il patrocinio di Asmel, si è svolto il dibattito dal titolo Una nuova strategia per le aree interne, strumenti legislativi, miglioramento dei servizi, rafforzamento dei legami comunitari. A fare gli onori di casa il sindaco Carmine Pignata, mentre tra gli ospiti erano presenti tra gli altri il presidente Asmel, Giovanni Caggiano, il presidente del Comitato Nazionale di Coordinamento Territoriale di Confindustria, Servizi Innovativi e Tecnologici, Edoardo Gisolfi, il presidente della Commissione Regionale della Campania, aree interne, Michele Cammarano.